Cina medievale, un villaggio di pescatori sotto la cruda spiatata violenza di un pugno di avventurieri senza scrupoli. Uomini che si combattono fino all'ultimo anelito di vita per non soccombere alla regola spietata del Kung Fu. Cina medievale. Cina medievale. All okk!! Aff depends. All okk aya! Aff Stevens!! Savu... All okk!! Anime che si perdono nei paradisi artificiali della droga Il sottile veleno dell'oppio che compie la sua azione distruttrice Seminando odio, malvagità, violenza Questo è... Oh, no, no! Aaaaah! La legge della sopravvivenza che insorge contro le perversità, le violenze carnali, le insaziabili bramosie di potere, che mette di fronte uomo contro uomo, astuzia contro astuzia, agguato contro agguato. Il tutto in un appassionante vicenda. Vi verrà presentato prossimamente qui.